Ciao a tutti, benvenuti al nostro Makina Tech Lab. Oggi vi presentiamo la giacca Kieftain. Per i nostri affezionati è l'evoluzione della giacca Domain. Qua siamo su un livello decisamente superiore, andiamo a introdurre materiali nuovi, andiamo ad introdurre caratteristiche nuove. Si tratta di un tre strati, tutto in ripstop e come anti-abrasione abbiamo il nostro nuovo materiale che si chiama Calorite. Possiamo andare ad individuare sia sulle spalle che sui gomiti le nostre nuove protezioni per un rinforzo maggiore. Le caratteristiche di questa giacca sono veramente tante. Abbiamo del night eye laterale che si chiama side eye che è molto importante nella zona laterale per appunto riflettere le luci. Abbiamo la chiusura laterale sia orizzontale che obliqua. Nella parte frontale abbiamo una zip molto importante con un doppio cursore, quindi la posso aprire dalla parte che preferisco, ma all'interno abbiamo il nostro quick pocket access per quanto riguarda le protezioni, perché posso andare a rimuovere le protezioni della giacca direttamente dall'esterno e la stessa cosa troviamo per rimuovere le protezioni delle spalle. Possiamo notare che abbiamo due tasche frontali per la reazione, sia a destra che a sinistra sul petto e questa si tratta di ulteriore ventilazione per di facile accesso. Due regolazioni sugli avambracci, come abbiamo detto, le nostre protezioni esterne. Cosa molto importante, abbiamo la tasca laterale per quanto riguarda le mani e poi abbiamo la nostra tasca completamente impermeabile con la regolazione con il velcro. Nella parte posteriore possiamo vedere come si apre totalmente il nostro pannello nella schiena e lo andiamo a riporre nel suo alloggiamento. Nella zona posteriore potete identificare la parte del belt, quindi della fascia lombare, che è già integrata nella giacca e quando vado a chiudere la giacca con i nostri passanti si va a performare direttamente sul corpo. Abbiamo il tascone per gli strati interni, sicuramente molto utile e molto importante e come potete vedere le zone di ampliamento della tasca sono con effetto naitai, naitai che troviamo anche nella parte laterale della giacca. Nella parte posteriore abbiamo la zona per inserire il nostro led e quindi preparate il nostro cat-hanger per il fissaggio della giacca. Internamente possiamo andare ad identificare la nostra giacca con l'apertura della zip e sul nostro colletto potete trovare direttamente il nostro gancio per la parte esterna, per la parte frontale. Aprendo la giacca possiamo andare a trovare il nostro sistema con gli alloggiamenti per il chest frontale, il nostro sistema quick access per la regolazione delle tasche e gli strati interni dove abbiamo una membrana impermeabile e dove abbiamo un piumino interno con una tasca completamente waterproof. Questo piumino tra l'altro si può indossare da solo, quindi diventa un capo a parte e mi posso comporre la giacca con gli strati a mio piacimento. Nella nostra giacca all'interno abbiamo delle protezioni di livello 2 e questo è molto importante per la sicurezza del nostro prodotto. Tutto quello che riguarda taglie e colori disponibili le potete trovare sul nostro sito makna.com